Buongiorno, vuole dirci chi è e di cosa si occupa? Buongiorno, mi chiamo Sabrina Mossenta e ricopro il ruolo di partnership manager in Viadeo.com, una piattaforma di network di professionisti. Nella mia attività mi occupo di sviluppare delle collaborazioni in Italia con associazioni, organizzazioni di eventi e con i media. Oggi è tenuto un workshop, di cosa ha parlato? Sì, in questo workshop che grazie ha avuto molto interesse, abbiamo parlato soprattutto di personal branding, cioè di come gestire la propria carriera professionale all'interno di più social network, non solo professionali. E poi molte domande sono state rivolte dal pubblico su come comunicare la propria azienda all'interno di un social network di business e quali sono le opportunità e anche i rischi. Sulla base delle tematiche che ha trattato, quali sono le sue aspettative per il futuro? Le mie aspettative relativamente alla Puglia, cioè in questo ambito locale, sono quelle di sviluppare il concetto della piattaforma di Viadeo.com, cioè di creare un networking multilocal dove i pugliesi possano effettivamente relazionarsi con il pubblico di riferimento, ma in particolare con altri professionisti in Italia. La ringrazio per essere passata da noi dopo il seminario. Grazie mille a voi, a rilecimo lavoro, grazie.